Perché, per esempio, pur condividendo quasi il 99% del DNA con gli scimpanze, quindi essendo da un punto di vista del materiale genetico sostanzialmente molto simili a noi, comunque sia molte scimmie non parlano? Ci sono vari motivi alla base di ciò. In primo luogo, nelle scimmie manca l'area cerebrale motoria di Broca. Inoltre, l'anatomia dell'apparato di fonazione non permette l'emissione di suoni articolati. Alcune scimmie addomesticate hanno imparato comunque sia a dire alcune parole. Però quello che si crea in tal caso è più che altro un feeling tra uomo e scimmie. Le scimmie, infatti, non sono in grado di leggere segnali simbolici appresi dall'uomo. Le aree associative di messaggi uditivi e visivi, le cosiddette aree di Wernick, sono altrettanto meno sviluppati nelle scimmie rispetto che negli umani anatomicamente moderni. Sembrerebbe quindi che nell'umano anatomicamente moderno ci siano alcuni geni responsabili del linguaggio. In particolar modo è stato individuato il gene FOXP2, detto appunto The Speech Gene, che è meno espresso nelle scimmie.